Bentornati Vittorio Baccari qui abbiamo introdotto l'argomento piramide del portiere con le varie aree di sviluppo e quali sono i macro obiettivi che poi andiamo a raggiungere sviluppando queste aree. I macro obiettivi sono la difesa della porta, la difesa dello spazio e il gioco di squadra. Individuati questi macro obiettivi, individuato poi le aree di intervento, individuiamo i soggetti quindi le età e andiamo a sviluppare il nostro programma di allenamento. La difesa della porta, il portiere nasce per difendere la porta, sostanzialmente noi sappiamo per chi è stato il portiere che l'obiettivo, il desiderio principale è quello di difendere la porta ed evitare appunto il pallone e altri passi di rotativa riga bianca e top da rete. Quindi come concetto di difesa della porta dobbiamo tenere conto di insegnare, addestrare nella presa della palla, nella presa della palla alta, nel tuffo, nell'uscita eccetera eccetera, cioè tutti quelli che sono i gesti tecnici che hanno come finalità la presa della palla o la deviazione o la respinta. La difesa dello spazio invece con l'evolversi del calcio, essendoci una richiesta sempre maggiore di interventi anche fuori area o da uomo aggiunto, abbiamo necessità di dare al portiere quelle che sono le misure e la gestione dello spazio fuori dall'area, dentro l'area in modo tale da poter intervenire anche in maniera diversa difendendo appunto lo spazio. Per finire il gioco di squadra, il gioco di squadra si intende la collaborazione con i compagni, lo sviluppo tattico, l'impostazione del gioco, tutto quello appunto che è un interesse e un coinvolgimento del portiere con il gioco di squadra. Ecco quindi che abbiamo generato i macro obiettivi, quelli che sono i macro obiettivi, come possiamo andare a raggiungere questi macro obiettivi? Sviluppando le aree tecniche, quelle appunto che sono inserite nella piramide, quindi l'area tecnica, l'area fisico psicologica, l'area strategica e l'area tattica del gioco di squadra. Ecco che andremo a sviluppare queste aree per raggiungere i macro obiettivi, tenendo conto delle varie fasce di età, quindi progressione didattica e proposta formativa adeguata in riferimento all'età. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.scuolaportieri.it nel quale avete tutti i riferimenti. A presto! Ciao! Ciao!